ci troviamo qui oggi con francesco marsciani e che è un grande esperto di semiotica e che si è occupato di temi molto importanti che spaziano dall'enunciazione al neutro, al rapporto con la fenomenologia, ai fondamenti stessi filosofici della disciplina, filosofico-scientifici e che tra le altre cose ha lavorato alla fondazione dell'etno-semiotica, che è un'area tematica della semiotica stessa, preconizzata da Gray Mass e a cui in seguito hanno lavorato altri autori come Maurizio Del Nino e in qualche modo oggi Francesco Marsciani porta avanti questa ricerca. Ma il nostro team di ricerca Nemosancti, che lo ricordiamo perché ci vede per la prima volta, studia la sentità, il discorso religioso attraverso categorie semiotiche e in particolare è interessato al Concilio Vaticano II e a che cosa cambia nella nozione di santità dopo il Concilio Vaticano II, intervista Francesco anche perché ha scritto un testo che noi pensiamo sia fondamentale per la semiotica della religione, che è il discorso della preghiera in cui Francesco Marsciani analizza il modo in cui funzionano diversi tipi di preghiera guardando anche a diverse culture, quindi al di là di quella che è la preghiera cristiana e analizza soprattutto quelli che sono i termini enunciazionali della preghiera stessa. Quindi io vorrei passarti subito la parola su questo punto e chiederti come è nata in termini semiotici questa idea e come si lavora sull'enunciazione della preghiera. Sì, sì, ti ringrazio. Ti ringrazio della domanda perché quel piccolo saggio, quella piccola ricerca sulla preghiera è un lavoro a cui sono molto affezionato perché mi ha restituito davvero di più di quello che mi aspettassi. Dunque, è nato in una maniera forse un po' banale, nel senso che stavo cercando una… quando mi trasferì da Milano a Bologna stavo cercando un buon tema per avere una parte monografica del mio corso da poter gestire in piena libertà e soprattutto insieme, lavorando il più possibile insieme agli studenti. Quindi cercavo un argomento che per me fosse un argomento un po' vergine, ma degno di interesse e da cominciare ad abbordare. Era effettivamente da un po' di tempo che mi chiedevo che cosa potesse caratterizzare la preghiera come discorso. Cioè, che cosa c'è dietro al fatto che ci si rivolge a qualcuno che non vedi, non senti, che talvolta si fa vivo, talvolta si fa vivo in qualche modo, che però sono sempre modi ipotetici, supposti. E quindi come si organizza un discorso con un tu, che è un tu così strano, per così dire, o così evanescente o così esorbitante? E allora cominciai a prendere in esame un po' di casi. Mi è sembrato particolarmente interessante il fatto che pregano tutti e tutti pregano in modo diverso. E che con la preghiera ci si trovi di fronte a un oggetto, certo, variabile, al tempo stesso molto radicato in qualche misura nelle culture, nei rituali, insomma in questa dimensione antropologica profonda, per così dire. Ricorderete tutti quel bel saggio di Michel Deserteau, che è l'uomo in preghiera. Anche quello mi piaceva molto, perché era un periodo in cui mi stavo occupando di significazione legata al corpo. E c'era un'immagine alla fine di quel saggio di Deserteau, dove è come se dipingesse un uomo in contatto con Dio, quindi un uomo che già raggiunge attraverso la preghiera è uno stato, diciamo così, ascendente, uno stato un po' trasceso, diciamo, rispetto all'umano, con le braccia alzate, in una sorta di figura ad albero, con le mani che fanno una ramificazione. E' come se facesse questo disegno. E quindi la preghiera, da quel punto di vista legata a questa apertura del corpo, sembrava essere una specie di crescita, di risalita di una natura orizzontale verso un principio verticale che domina. E' un po' come una pianta, no? Che cerca la luce, cerca l'aria, cerca... Era particolarmente suggestiva. E così, e così, ho cominciato a guardarci un po' dentro. Naturalmente ho letto molte preghiere. Erano anche, più o meno il 2000, fine anni 90 del secolo scorso. Ed era anche un periodo New Age. E quindi mi sono letto anche un mucchio di preghiere agli angeli, non so, erano quei periodi in cui c'erano dei libretti che circolava sulle preghiere, tutti i vari... Erano abbastanza divertenti. E lì, quando dico che quel lavoro mi ha restituito di più di quello che mi aspettassi, è perché effettivamente mi ha permesso di lavorare sulla dimensione enunciazionale, quindi sulla messa in articolazione operativa, come dire, no? Quando fai le domande e i testi tu metti in operatività le categorie che possediamo, che abbiamo come semiologi. E lì si trattava di mettere all'opera le categorie della discorsività. Ed effettivamente ci si rende conto come questo grande, forse smisurato discorso che accomuna l'umanità intera, e che si svolge, si articola in ogni momento, ha una propria forza, una propria dominanza che è di particolare interesse per quel tanto che permette di cogliere delle differenziazioni interne, ma anche delle declinazioni che ricadono, per così dire. Ogni volta che noi diciamo a qualcun altro, banalmente, in un qualunque momento della giornata, ti prego, non farmi questo, oppure ti prego, potresti… C'è, si mette in moto qualche, come dire, un tipo di relazione, si stabilisce un tipo di relazione che è da un lato molto tipico, ma dall'altro sembra essere tipico di ciò che vuol dire pregare, pregare qualcuno, mettersi nelle condizioni di fare delle richieste da una certa posizione nei confronti di un'altra posizione, c'è una distribuzione del potere, evidentemente la preghiera in qualche modo prevede che ci sia una distribuzione asimmetrica del potere, quindi c'è un questuante, c'è qualcuno che può concedere o non concedere, ma questo diventa una modalità diffusa, e diventa una modalità diffusa che ci permette di descrivere molte situazioni che non sono necessariamente quelle tipiche del culto religioso come tale. D'altra parte, andare a vedere invece le sue manifestazioni più cultuali, ci si accorge di come diventa interessante cogliere delle grosse differenze che riguardano l'atteggiamento dell'orante nelle diverse culture, il che mi sembra che possa aprire una luce, cosa che io ho percorso, guarda, qualche metro, ci sarebbero dei chilometri da fare, però può aprire qualche luce interessante sul modo in cui le diverse culture, le diverse culture religiose che vanno bene al di là di quelle che abitualmente concepiamo oggi così, un po' automaticamente, come le culture religiose diverse, alternative tra loro. Cioè, qui l'interessante è andare anche molto al di là dei monoteismi, per intenderci. Si possono aprire degli spazi di comprensione, di formazioni culturali diverse che concepiscono l'altro, concepiscono banalmente il tu nel dialogo, ma concepiscono anche la possibilità che ci sia un tu, che è questo tu che dicevo all'inizio, il tu che non si vede, il tu che non tocchi, il tu che c'è quell'altro tu, che è il grande oggetto che potrebbe stare al di là dell'oggettività attestata, per così dire, e che quindi diventano particolarmente interessanti. Lì, non so, io ho lavorato sulla preghiera cattolica, sulla preghiera musulmana e sulla preghiera, tra virgolette, buddista. che sono i tre casi, tre dei casi possibili, avendo provato a scegliere tre preghiere, tre proprio oggetti preghiera, tipici, più tipici del Padre Nostro, per quanto riguarda la nostra cultura cristiano-cattolica, più tipico che la preghiera rituale musulmana, quella di purificazione, insomma, la preghiera delle cinque orazioni quotidiane, è più tipica della puja buddista, che non è altro che l'espressione dell'atteggiamento spirituale, diciamo così, o religioso. Sai, sapete bene, sai bene anche tu, che col buddismo dire religione è sempre un po' delicato. È controverso. Bisogna sempre metterci le virgolette. D'altra parte, è un atteggiamento profondamente spirituale, quindi anche loro attingono a una dimensione che non è quella della gestione del quotidiano, quando sono in meditazione preghiera, diciamo così. Infatti, tra l'altro, quello che emerge è davvero interessante, perché lì manca completamente il tu, e c'è la costruzione di una opzione ottativa, per così dire. Provo un attimo a riassumere la definizione che tu dai, molto sintetica, perché di preghiera c'è un io che è inferiore a un tu rispetto al potere e che ricorre di conseguenza al proprio sapere per in qualche modo sedurre questo tu più potente. Quindi diciamo che nel caso del buddismo il problema è cosa occupa questa posizione del tu. Infatti, infatti, infatti. Sì, sì, è che mancando un tu personale come è invece per le religioni monoteiste le nostre. Questa della posizione buddista è effettivamente una posizione in cui non è tanto il tu. Per quello che dicevo anche preghiera, tra virgolette, perché è l'espressione di un voto, è l'espressione di un desiderio. Ora, la dimensione del desiderio nella preghiera esiste perché si tratta pur sempre di esprimere il desiderio di un rapporto. Spesso nella cultura cristiana si prega anche per ottenere la grazia. Questo è meno vero nella cultura islamica dove si prega prevalentemente per glorificare. D'altra parte, glorificare ha un suo ritorno che è un ritorno del dato, di fatto. Un Dio è glorificato, è un Dio che è contento di te. Quindi, se non sarà qui, se non ti darà dei premi su questa terra, comunque tu meriterai un al di là paradisiaco. La preghiera buddista non ha questa dimensione della richiesta, ha però l'espressione di un desiderio, anche in questo caso. e lì c'è la convinzione che atteggiarsi a oranti, cioè per esempio l'idea del mantra, tu poi ne sai molto perché essendoti intrattenuto con le litanie negli ultimi anni sai anche che cosa può significare una dimensione mantrica proprio, della ripetizione del verbo. si trova anche nell'esicasmo, si ritrova anche nella preghiera del pellegrino russo, quindi c'è all'interno del cristianesimo questa effettivamente questa tendenza. Sì, perché è una tendenza che ha a che fare con una possibilità di espansione diciamo della coscienza se vogliamo parlare in termini un po' meno semiotici ma un po' più, cioè si tratta di sono rituali che favoriscono la messa in regolazione se vogliamo di una macchina che è una macchina che nella ripetizione vede l'intensificarsi dell'espressione di quello che nel caso specifico parlavo di desiderio quindi c'è un meccanismo di intensificazione del desiderio che per i buddhisti è un meccanismo di intensificazione dell'energia positiva pregare significa fare del bene al mondo essenzialmente e cosa dici quando vuoi fare del bene al mondo possa il mondo andare bene e lo fai secondo una scala di prossimità che ti avvicina all'universo intero cioè tu parti possa io stare bene possa io avere pensieri sereni poi possa il mio amico avere pensieri di sereni possano i miei parenti avere pensieri di sereni possa il mio nemico avere parenti di sereni possa la natura o le piante avere pensieri di sereni possa l'universo possa tutto avere pensieri sereni è un progressivo avvicinamento a questa dimensione che è una dimensione di energia di energia concepita come un'energia attivabile se vogliamo no un'energia o forse no più che attivabile alla quale si può accedere ecco forse sì questo posso dunque volevo sapere anche questo cioè come in che rapporto tu pensi che ci possa essere tra questa dimensione enunciazionale che studi nel discorso della preghiera è una indagine etno-semiotica degli spazi e dei tempi in cui la preghiera poi effettivamente avviene come performance perché in un paio di casi anche io mi sono occupato poi di questo cercando di applicare questa struttura o cercando di ritrovare questa struttura nello spazio e quindi volevo capire che tipo di potenzialità tu vedi o che tipo di nesso tu vedi tra la dimensione enunciazionale e un'analisi etno-semiotica delle pratiche che avvengono poi nello spazio ma sì credo che sia essenzialmente lo stesso problema sono due modi di dire la stessa cosa perché le pratiche enunciazionali consistono essenzialmente nel mettere in scena diciamo degli enunciati nei quali il mondo è articolato secondo spazialità e temporalità e rapporti anche attoriali che sono ogni volta diversi quindi c'è effettivamente l'idea che un certo atteggiamento enunciazionale produca degli enunciati che si esprimono in forme della spazialità e della temporalità e dell'interazione diversa è molto questo fa parte delle cose che quel saggio mi ha restituito cioè effettivamente il rapporto che il cristiano intrattiene con il suo proprio padre celeste è un rapporto tipicamente diciamo così di famiglia cioè il cristiano è uno dei figli di questa famiglia di cui c'è un padre e c'è anche una madre come sappiamo che molto spesso per ottenere dal padre devi passare attraverso la madre l'intercessione della madonna ma d'altra parte è questo e il padre abitualmente è una figura più alta è una figura verso la quale convergono gli sguardi dei piccoli e i piccoli spesso mentre parlano col padre si danno dei calci e allora gli chiedi di mantenere la calma perché altrimenti non ti sentirebbe neanche bene se non c'è abbastanza tranquillità qui tra i piccoli e gli chiedi la grazia gli chiedi il bene insomma gli chiedi la pace gli chiedi il pane quotidiano gli chiedi quello che credi di poter gli chiedere e quindi fra l'altro questo organizza delle spazialità che sono le spazialità del culto cioè le nostre chiese sono costruite con questa diciamo così con questo vettore dai molti all'uno e oltretutto questo uno è collocato in una posizione supera per cui abbiamo questa tipica la forma tipica della chiesa gotica non è altro che questo tipo di realizzazione di un certo tipo di spazialità e tra l'altro un certo tipo di spazialità non solo ma anche anche la temporalità è coinvolta perché questi sono i momenti in cui il padre è disponibile sappiamo il padre è sempre disponibile chiunque può entrare in chiesa e pregare ma il momento cultuale della preghiera collettiva è tipicamente quando tutti insieme recitiamo il padre nostro nostro badiamo bene perché il padre nostro manifesta propriamente questo tipo di relazione in cui siamo molti di fronte a un padre e questa idea della comunità ciascuno di noi può farlo naturalmente da solo ma continua a dire padre nostro quindi e quello sono i momenti della sono i momenti della celebrazione quindi c'è 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 la c'è la messa o c'è o c'è il vespero insomma ci sono una serie di momenti ma sono i momenti della celebrazione in cui in un certo senso il canale è aperto e questa cosa qui è interessante perché per esempio nell'altro tipo di 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 grande religione monotista che è l'islamismo lì è proprio questa questione del canale cioè la spazialità è una spazialità organizzata su un altro modello di canale di di canale di di comunicazione dove non c'è questo 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 movimento della richiesta dal alla quale al quale movimento deve seguire il movimento di ritorno che è quello della concessione della grazia da parte di Dio nostro Dio lì c'è soltanto un movimento che di sola è andata ed è tra l'altro converge sulla Mecca perché tutti gli oranti a tutte le ore del giorno cioè cinque volte al giorno ciascuno ma questo significa che durante la rotazione terrestre tu hai una copertura totale di tutti i canali che mandano energia di fedeltà energia di fede alla pietra nera della Mecca che è una specie di io lì mi diverto da chiamarlo lo Stargate in un certo esempio tu hai dentro a questa pietra nera della Mecca da qualche parte c'è il passaggio per cui questa energia arriva a Dio e che ne trae gloria e lì non c'è nessuna richiesta cioè certo anche i musulmani chiedono le chiedono ma fondamentalmente le frasi rituali della preghiera di rituali di purificazione sono frasi che non hanno la richiesta al loro centro ma sono semplicemente l'affermazione della beatitudine della grandezza della gloria di Dio non si è lì a chiedere si è lì a dare e questo però prevede altri modelli di spazialità come giustamente ricordi anche i tempi sono diversi perché noi abbiamo il luogo il momento il momento adeguato per loro invece è soltanto la scansione del tempo della vita addirittura del tempo della giornata che non fa altro che mantenere aperto il canale si ritrova anche nel cristianesimo orientale nell'inno accattisto ci sono diciamo delle c'è una tradizione cristiana di acclamazioni ecco che magari non sono prevede nel senso di appunto chiedere qualcosa ma acclamano Gesù o la Madonna però diciamo che questa tua riflessione sul nesso tra spazialità e anche sulla programmazione temporale dell'edificio sacro inteso come una sorta di macchina che amplifica il desiderio mi fa pensare al problema dell'attualità che abbiamo vissuto con il covid ovvero con la sospensione durante la pandemia del coronavirus delle cerimonie e le problematiche che ne sono derivate perché la chiesa non ha reagito in maniera unanime con una sola risposta rispetto a questa sollecitazione mentre Papa Francesco ha preso una posizione molto chiara sulla sulla chiusura e ha cercato di fare poi di tutto per compensare in un certo senso l'assenza di questa macchina che serve al cristiano e poi abbiamo invece delle chiese intere penso alla chiesa polacca che è opposto della resistenza e infine con la fase 2 dell'epidemia c'è stata anche una differenziazione dei vescovi quasi direi un momento di impazienza dei vescovi italiani che hanno detto come riaprite i centri commerciali e non riaprite le chiese io a tuo parere c'è una ragione semiotica quindi di tutto questo cioè questa macchina che è la chiesa ha una funzione in qualche modo necessaria deve esserci non so come la vedi no dunque io qui devo essere molto sincero io non ho partecipato alla semiotica del covid cioè a quei momenti che io ho trovato molto utili molto interessanti divertenti i nostri colleghi hanno fatto più di una riflessione sui meccanismi che emergevano in questo e beh quello che tu citi il problema che ponevi richiama subito l'intervento di Maria Pias che sulla benedizione Ulbia Torbi del Papa che è stata clamorosa perché c'era forse più presenza di un mondo intero lì in questo vuoto straordinario che riecheggiava molto di più delle normali benedizioni domenicali con la piazza piena ma sì quindi queste sono tutte cose degnissime io però non mi sono esercitato molto su questo in particolare su questo aspetto religioso tu mi stai chiedendo qualcosa che va che va un po' al di là dunque la funzione della chiesa beh io non mi permetterei mai nel senso di dire non ho la risposta su questo è vero che la crisi provocata dal covid mostra alcuni comportamenti che essendo reattivi rispetto delle condizioni nuove lasciano intravedere la l'autorappresentazione quanto meno che la chiesa ha di sé e su questo devo ammettere che un po' come però mi è capitato di pensare anche rispetto ad altre categorie come mi è capitato di pensare rispetto anche ad altre categorie devo dire che la la chiesa forse avrebbe potuto beh tu dici giustamente ha assunto atteggiamenti diversi diversificati avrebbe potuto fare forse un salto oppure come dire prendere molto sul serio questa questa novità perché è una novità di grande impatto culturale e antropologico questa del covid forse forse c'è una dimensione che il covid solleva che è una dimensione con una dimensione della difficoltà ad immaginare quella che è la realtà di un'epidemia come questa quindi c'è una dimensione dell'aldilà per così dire del non dato del non pronto del non dominato del non già controllato dalle nostre dalle nostre programmi dalle nostre abitudini dalle nostre capacità di prevedere e questa dimensione forse era una dimensione da lo dico io non sono credente quindi per me il problema è un problema di altri ma dal loro punto di vista forse sarebbe stata una dimensione da riempire con una con una certa con una certa incisività maggiore non puoi fare a gara con la discoteca mi pare forse sarebbe il caso di parlare di questa cosa inimmaginabile che è il fatto che qualche cosa può arrivare a fermare il mondo io non lo so abbiamo avuto tutti quanti l'impressione che che la cosa fosse fosse grande fosse grave io ho avuto l'impressione che sotto sotto per noi sia stato un enorme shock per la maggior parte della gente anche quando non ce lo diciamo perché in fondo è un virus e ci sarà il vaccino prima o poi però è stato uno shock incredibile c'è stato anche tutto il tema del cambierà tutto poi non cambia niente ma non davvero secondo me nessuno di noi è ancora riuscito o riuscirà in tempi brevi a fare i conti con questa cosa perché siamo in una civiltà che non prevede la propria estinzione ce lo diciamo c'è Greta Thunberg ci sono tanti Cassandre ci sono tante ragioni per pensare che le cose possono andare male ma la nostra civiltà non lo ammette non lo immagina non lo immagina credo che questa cosa del covid e forse proprio questa dimensione dell'inimmaginabile poteva essere o potrà essere o può essere per la chiesa un tema da fare proprio piuttosto che dire bisogna che continuiamo a fare come facciamo di solito insomma è un po' come è un po' come le botteghe dire bisogna continuare a fare come facciamo di solito io credo che i fedeli possono avere delle modalità di costruire comunità ecclesiastica e profondamente diciamo così coinvolta in un rapporto religioso senza necessariamente dover fare una questione di apertura o chiusura di ambienti questa questione è interessante perché il cambierà tutto è la visione appunto per cui c'è un primo dopo il covid una crisi del covid alla fine la sensazione che hai detto anche tu è quella che si riprenda il discorso apocalittico cioè nel momento in cui al discorso politico mancano le categorie per dare una forma a questo evento del covid si vanno a recuperare le categorie del discorso religioso dell'apocalisse e se prima lo faceva soltanto la piccola Greta adesso lo fanno anche Conte Lavanderley quando dicono che questa è l'occasione per una ripartenza green per riprogettare completamente tutta la nostra economia non so se sei d'accordo con questo punto si si io lo dico senza giudizi di valore nel senso che io sono anche abbastanza d'accordo su questo però prendendo la cosa per quella che è è vero che c'è un passaggio dall'idea di programmazione all'idea di Alea direbbe il nostro amico Randosky non abbiamo più una scienza che opera che sa come si cura la polmonite la polmonite da freddo non è neanche con il cancro o con le cose gravi voglio dire qui abbiamo noi stavamo stiamo costruendo un certo tipo di tecnica scientifica che ci permette di prevedere le nostre giornate ecco il covid ci ha posto di fronte al fatto che no un momento non tutto è prevedibile certo la scienza lo abbiamo sempre saputo ovvio che nessuno di noi nessuno di noi nega il fatto che può accadere un meteorite ma che questo possa succedere così in termini sanitari e incontrollabili questo è qualcosa che scardina il modello di scienza con il quale abbiamo a che fare da molti decenni perché dico da molti decenni perché probabilmente con la spagnola o con le pesti l'umanità era più pronta a sapere che poteva anche possiamo morire tutti o se non tutti o una buona parte qui noi non siamo pronti non lo siamo c'è una specie di intercapedine un velo che si è interposto tra l'autorappresentazione che abbiamo di noi come gente che in qualche modo con la civiltà ha imparato a gestire le 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 sorprese di questo tipo e invece il fatto che qui ci è apparso ci è apparso improvvisamente spaventoso io credo non so in quanti io credo di essere una persona normale per cui ma quanti di noi per pochi attimi ogni tanto a un telegiornale o una cosa così sono rimasti sbalorditi all'idea che tutto il mondo fosse fermo che i miliardi di persone cioè due terzi dell'umanità era sotto covid ma poi dopo di che niente perché non abbiamo gli strumenti per gestirla questa cosa forse la religione li potrebbe avere perché noi non li abbiamo noi siamo semplicemente anzi sfuggiamo dopo cinque minuti andiamo a farci qualcosa da mangiare come è capitato al più durante il periodo perché perché quel momento quell'attimo è un attimo chiamiamolo anche solo sbalorditivo ma ci restituiva l'idea di una inimmaginabile realtà va bene allora direi che possiamo ringraziare Francesco Marsciani che ci ha dato questa come dire ci ha concesso questa intervista e si è anche prestato a questo gioco di farci sì ma mai trascinato in una conversazione così così libera sì 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 un'analisi estemporanea di ciò che è successo della pena accaduto diciamo e niente e quindi diamo l'appuntamento ai nostri spettatori per la prossima segno un'analisi Grazie a tutti. Grazie a tutti.